Per contrastare l'arrivo del gelo e mitigare le estreme condizioni meteo come quelle che hanno caratterizzato le ultime ore in città, il Comune di Vicenza sta rafforzando i servizi già attivi di ospitalità notturna per le persone che non possono contare su un alloggio. Venerdì scorso è stato aperto l'ex studentato di Contra San Marco. L'edificio messo a disposizione dal Vescovo viene gestito dal Comune e va a sostituire i posti letto nei container di via Battaglione Framarine. In questa struttura offriremo al massimo una quarantina di posti letto che vanno ad aggiungersi al potenziamento dell'albergo cittadino della città che mediamente ospita durante l'anno 45-50 persone durante il periodo invernale quindi per l'emergenza freddo fino a 69 e che vanno a sommarsi anche ai 65 posti letto che mette a disposizione la Caritas di Vicenza e la città. La struttura sarà a disposizione fino al 31 marzo prossimo. Per accedere però va accettato un regolamento per garantire qualità del servizio sia agli ospiti che agli operatori. Sarà necessario preventivamente sostenere un colloquio e dichiarare le proprie generalità che saranno comunicate alla Questura. Verrà rilasciato un pass che consentirà l'accesso tra le 18 e le 21 e l'uscita tra le 7.30 e le 9. Il venerdì ce ne erano 16, già questa mattina invece ce ne sono registrate 25. Sono persone che appunto hanno accettato il regolamento, quindi delle regole chiare, poche per quello ma chiare. Non potranno infatti accedere alla struttura persone in stato di alterazione e proprio sulla sicurezza il Comune ha voluto porre l'accento. Come amministrazione abbiamo voluto anche la presenza di una guardia giurata non armata proprio per poter garantire una sicurezza maggiore sia per il territorio ma anche per chi frequenta questo spazio.